The Wall Between Us, il muro tra di noi, è il titolo della mostra visitabile al Museo Maga di Gallarate, nata dalla ricerca pluriennale di Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini, e già vincitrice dell'ottava edizione di Italian Council, il programma di promozione dell'arte contemporanea. L'esposizione nasce dalla riflessione sull'eredità più intricate della Guerra Fredda e coinvolge comunità della diaspora asiatica e in particolare vietnamita in Europa e Nord America. In collaborazione con creativi, scrittori e attivisti, i due artisti analizzano la loro posizione di genitori adottivi italiani con una figlia e un figlio nati in Vietnam, riflettendo sull'intersezione tra appartenenza, parentela, storia, politiche identitarie, nonché sugli intrecci esistenti tra loro e i diversi movimenti di memoria che costellano Berlino la città in cui vivono. Quello del muro di Berlino, o meglio del suo spettro, diviene così un'immagine ricorrente che è strumento narrativo da cui il loro racconto visivo si sviluppa. Da qui il titolo della videoinstallazione The Wall Between Us, che documenta un viaggio visionario attraverso la capitale tedesca. Una piccola barca a vela si muove per le strade della città lungo il percorso dove prima sorgeva il muro. Su questa barca i due artisti e le loro famiglie trascorrono una giornata intima e ordinaria nello spazio pubblico, navigando nel traffico cittadino, alla ricerca di un luogo immaginario dove le memorie e le vite di chi è stato diviso dalla storia possano idealmente incontrarsi. Tutta la mostra e tutto il progetto nasce da un incontro tra la nostra esperienza personale in quanto genitori adottivi di due bambini vietnamiti e il nostro interesse e bisogno, noi abitiamo a Berlino, di trovare un incontro e uno scambio culturale e simbolico con la comunità diasporica vietnamita. Tutta la mostra è incentrata sull'idea del muro di Berlino come luogo di grande divisione che qui viene trasformato in un luogo abitabile. Il limite diventa in qualche modo il punto in cui ci si può incontrare e scambiare sia tra individui singolarmente che tra comunità. In queste camicie io ho ricamato a mano la mappa della città, la camicia ricamata in rosso è la ex Berlino Est e la camicia ricamata in blu è la ex Berlino Ovest e il punto in cui le maniche si toccano è uno dei punti in cui passava il muro. Come nel video noi ritracciamo il percorso del muro con la nostra barca come atto poetico, anche in questo caso abbiamo creato questo lavoro così delicato di ricamo per riflettere sul passato della storia della città. In più le due camicie sono fatte in Vietnam e quindi parlano anche di un rapporto coloniale che esiste ancora tra il consumatore occidentale e i paesi in cui la manodopera costa meno, in questo caso il Vietnam che è il paese su cui noi ci siamo concentrati. Il MAGA ora attende la sua nuova mostra, Intrecci, MAGA e Missoni per l'arte e l'educazione, che verrà presentata mercoledì. Un vero e proprio progetto educativo, sostenuto dal Museo Gallaratese, dalla Maison Missoni e dalla Fondazione Ottavio e Rosita Missoni. Grazie a tutti.